Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benni ragazzi e io sono Sonny. Ciao caro Benni come stai? Bene bene ciao Sonny e allora sono veramente contento che questo 2021 ci serverà nuove novità. Posso dire una cosa? Novità novità posso dire una cosa? Praticamente noi sia per la giornata di Natale che per la giornata del Capodanno siamo stati completamente, siamo stati pochissimo attivi sul profilo, non abbiamo fatto comunque degli auguri speciali, veramente degli auguri scrausi. Ci fai caso? No vabbè diciamo che l'abbiamo fatto durante le puntate oppure la versione quella Christmas Edition nella roulotte addobbata a festa, quindi secondo me no abbiamo fatto un po' di roba. All'inizio in che senso? E comunque non ce l'abbiamo come abitudine. Secondo me le nuove generazioni sono proprio abituati al fatto di postare un tutti i stori durante la giornata, proprio avere quel pensiero. Io personalmente a Benni non mi sento abituato. Grazie perché faccio tutto io la fatica praticamente, faccio tutto io il lavoro. Aspetta c'è qualcuno che ci deve salutare. Ciao Benni, ciao Sonny, ciao papà. Salute padre. Salute padre, ci vediamo dopo. E quindi il saluto del padre, è la prima volta che c'è veramente un salute padre realmente esistente. Esatto, esatto. Quindi ti dicevo caro Benni, tu percepisci questa cosa? Questa cosa che percepisco? Non la percepisco perché ripeto, io sono invece addentro al mondo di Instagram proprio perché io mi occupo di tutta quella sezione legata alla sponsorizzazione e alla pubblicità. Cosa mi dici nei pomeriggi? Non mi ricordo, però te ne dico tante di cose che... Fra te, fra te, porca... perché non ti curi il tuo profilo personale? Ah, questo pure, esatto, non c'è motivo per cui tu... Tu questa cosa non la odi, tu questa cosa la odi che io, tipo, sono poco attivo sul mio profilo, proprio su Instagram in generale. Ma sì, perché potrebbe essere, diciamo, una risorsa, anche un secondo profilo personale attivo. Ma non credi che potrebbe creare del like, no, su una persona che dice, ma questo pubblica vai un cavolo, beh, vediamo cosa fa, eccetera, eccetera. Non credi che ci possa essere questa strategia di marketing? Non lo so, vedremo. Però in un anno non sei cresciuto più di tanto, questa è la cosa che mi perplina. Ma forse in un anno sono cresciuto di 24. Sì, esatto, esatto. Vabbè, dai, dai, basta. Allora, io oggi volevo parlarti di un argomento un po' particolare che ci serve per introdurre anche, diciamo, l'ospite o gli ospiti, in base, diciamo, alla scelta che faremo poi durante la settimana, della sezione interview. Quindi, come avrete notato, i colori che si alternano durante la vostra vita e la vostra esistenza sono il blu, il rosso e il verde. Ricordiamo che il blu è questa rubrica, quindi talking about, il rosso è il book reading e il verde sono le interviste. Ora, visto che i nostri ospiti futuri sono molto, molto particolari, perché si occupano di un settore specifico del, diciamo, mondo... Dell'intrattenimento! No, intrattenimento, ma non solo, ma dipende, diciamo, da chi sceglieremo di introdurre per questa sezione interview. Ma, lo vedremo, stanno facendo. Quindi, oggi, volevamo parlare un po' di una cosa che avevo letto, così di sfuggita, ma che adesso voglio approfondire insieme a te, caro Sonny. Ok? Sì. Oggi parleremo, in realtà, di due argomenti che sono collegati tra di loro fino a un certo punto. Saremo noi a trovarci questo filo rosso, che, diciamo, per molti potrebbe... Il filo nascosto, l'hai visto? No, però è bellissimo, lo so che ha vinto pure... Va recuperato, va recuperato, forse stasera... Anzi, stasera mi sparo l'Hobbit 2. Che cos'è? La desolazione di Smaug. Esatto. Ti consiglio la versione estesa, se vuoi ti linko... Sì, ma io l'ho acquistata su YouTube. La versione estesa quanto dura? Tre ore. Ah, ma credo che, comunque, nel mondo dell'internet ci sia questa. Lo sai perché? Perché già, avendo visto il primo, l'Hobbit, un viaggio per terapidia, un ponte per terapidia, praticamente... La durata era, appunto, sempre di tre ore e dieci... Ah, sì, allora ormai si trova quella estesa di default, diciamo. Ottimo. Ok, di default, va bene, va bene, quindi... Allora, e quindi, oggi volevo parlarti, caro Sonny, dei dilatatori rettali del dottor Young. Ok? Ok. Allora, Sonny, immaginati questa... Se non mi sbaglio, hai già pubblicato in qualche storia o qualche cosa. Sì, esatto, esatto. Infatti, ho pubblicato nel mio profilo... Sì. Una piccola, scusami, tetrologia riguardo a questo argomento. E poi ti lascio. Io ti interrompo a volte se si stia a fastidio di me. No, no, no. Se continuino lo stesso. Vai. Praticamente, quando, quel giorno, proprio, avevo tantissimo da fare, quindi non ho potuto smanettare eccessivamente col telefonino. La sera, dando sul profilo a controllare come faccio di solito, trovo questi utensili neri. Questa scatola, no? Con il contenente queste cose, sì. Cosa? È una scatola che tu la apri, questo forziere misterioso. Sì. E trovi un intendo... Con dei pioppi... Sembrano quasi dei pioppi stilizzati. Dei pioppi futuristici. Io ho detto, ma è quello che penso? O è un classico doppio senso del bon ben? I tipici, le tipiche freddure di... Invece l'hai fatto veramente, quindi... Sì, perché... Perché diciamo che l'immaginario collettivo oggi ci porta a vedere questi strumenti come degli strumenti o dei... Diciamo dei toys sessuali, ok? Però in realtà... Quindi, diciamo, assimilabili ai plug anali, tutte queste cose. In realtà... Esatto. Il dottor Young inventò questi dispositivi medici, effettivamente, che sono stati usati fino agli anni 40 del Novecento. Però qui c'era tutto un discorso legato proprio a un ambito più medico che di, diciamo, provocazione del piacere, ecco. E infatti, un po' come è stato con il primo vibratore della storia, che sarà il secondo argomento. È qui che nasce il filo rosso, no? Quindi abbiamo degli strumenti che sono medici e che poi, con il passare degli anni e del mutamento del costume sociale, si è arrivati a percepirli e a utilizzarli come strumenti per provocarsi piacere. Dicemi? Vuoi sapere qual è la mia fantasia, la mia idea, no? Perché giustamente tu stai dicendo che si parte da strumenti medici per poi essere switchati di strumenti sessuali. Sì. E voglio immaginarmi un po' come è avvenuta questa storia. Penso che sia stato appunto un medico stesso a trovare questa utilità. Magari era lì, aveva appunto nel suo studietto, con il suo camicetto, un po' incoglinito, un po' stempiato, in questa condizione un po' tipica da medico, ecco. Molto stereotipata. Sì, età vittoriana, no? Tipo questa, tipo, periodo di Sherlock Holmes, no? Esattamente. E guardando bene sul tavolo, appunto, allovo ad osservare questi dilatatori che avevo utilizzato precedentemente col paziente, no? Lui a questo punto dice, no, perché non farlo? Allora, in quel frangente l'ho approvato e ha capito che in realtà potesse essere utilizzato. Diciamo che è tutto collegato, caro Sonni. In qualche modo hai ragione perché comunque l'utilizzo di questi dispositivi medici era da, appunto, da perpetrare col tempo, nel senso che non era soltanto un one shot, tu dovevi proprio utilizzarli nell'arco della giornata per un periodo anche, diciamo, infinito, nel senso che loro, lui diceva, anzi, nella confezione c'era proprio la classica frase usali il più possibile, non avere problemi ad usarli il più possibile che puoi, quindi in realtà c'era anche questa visione, infatti ora leggeremo questo disclaimer che era inserito nella confezione, tra l'altro è un packaging molto accattivante, devo dire. Allora, io adesso mi approcquirei alla lettura di questo bellissimo articolo che comunque secondo me è molto esaustivo. Allora, ricordiamo che su Dottor Young abbiamo pochissime fonti, anche la Wikipedia italiana non riporta assolutamente nulla, questa è una cosa incredibile, penso che non esiste. C'è soltanto quella inglese e poi c'è chiaramente tutta una serie di articoli che parlano di questo fantomatico dottore che ha un po' rivoluzionato, in modo chiaramente errato, certe visioni che oggi noi consideriamo abbastanza assodate. E allora, i dilatatori del Dottor Young erano un dispositivo medico venduto negli Stati Uniti dalla fine del XIX secolo fino almeno agli anni 40 del Novecento. Il set di dilatatori era composto di quattro strumenti in gomma dura, ma più recentemente di plastica, di diametro variabile, ed è qui la chiave di volta, no? Proprio il fatto che ci sia una... Un diametro crescente. Esattamente. Se i dilatatori anali sono usati ancora oggi in medicina come rimedio per disturbi quali stipsi, proclas... pro... proctal... pro... proctalgia, giusto? E altre patologie, quei del Dottor Young colpiscono per la loro forma assolutamente diversa e abnorme rispetto agli attuali dilatatori e per lo scopo per cui, secondo il loro inventore, dovevano essere usati. Ok? Ok. Young sostene... Però dobbiamo dire ancora perché sono stati inventati. Esatto. Il Dottor Young... Young sosteneva che la dilatazione rettale con i suoi strumenti garantiva la cura contro... Allora, la pazia, l'alitosi, la pelle giallastra, e qui qualcuno potrebbe... Comunque, ragazzi, non ci sto credendo. Aspetta, non è finita. L'acne, l'ansia, la stanchezza, l'ebbrezza mentale, cosa significa? Non lo sappiamo, l'insonnia, l'anoressia, il mal di testa, la diarrea, le emorroidi... Ma la diarrea semplicemente... Perché è un tappo? Meccanicamente chiudevi, no? Praticamente è un po' sì. Vabbè, aspetta, ora vediamo. La flatulenza, anche qui è un tappo, chiaramente, l'indigestione, il nervosismo, l'irritabilità, le estremità fredde e numerosi altri disturbi. Quindi le estremità fredde. Noi abbiamo un amico che soffre di geloni, no? Sì, diciamo che è il nostro amico più alto, quello più alto che esiste. Ma è classico, quando tu trovi un soggetto molto alto, di solito la vascolarizzazione all'estremità, quindi mani e piedi, resa sempre più... è un po' più difficile, insomma, un po' più difficoltoso e di conseguenza d'inverno si può verificare questo quadro, di gelone o freddo. Va bene, voglio dirti una cosa, leggendomi appunto, ascoltando tutte queste malattie che cura il carissimo il carissimo dilatatore, mi viene da pensare che veramente lui l'ha concepito. Allora, io penso questo, bene, te lo dico, cosa ha fatto il dottor Young, perché su molte delle patologie, sulla diarrea, i pelli, eccetera, eccetera, ci potrebbe essere un fondamento, cioè tu lo chiudi come se fosse... No, vabbè, ma io penso che era... Tu facevi questa prevenzione, avevi l'ano più largo, il retto più largo, poi avevi questa sorta di soddisfazione futura, nel senso che avevi un rimedio futuro. Sì, però se ci pensi a aumentare il diametro di un buco, non riduce la contenzione di un eventuale diarrea. infatti è abbastanza strage. detto questo, secondo me, molte delle altre, invece, non hanno nessuna correlazione con la localizzazione né con l'atto. Di conseguenza, ti dico che cosa ha fatto secondo me il carissimo dottor Young, che il dottor Young era un birbante, un bricconcello, uno a cui piaceva sperimentare, e trovò praticamente, e provò questi utensili, ok? Però ha detto come faccio come faccio a creare, a rendere una cosa tra virgolette magari assurda per quel periodo, una cosa invece mainstream, una cosa utilizzabile, una cosa che può essere pronto utilizzata e normale, gli butto la salute, perché ragazzi, parliamoci chiaro, tutte le persone, ogni volta che si parla di salute, si fanno immabolare, cioè se tu dici a uno la cura per guarire il bruciore di stomaco, ecco, andiamoci ad entrare in malattia troppo strana, è il tè verde per dire, e ricevere cinque pugni in faccia ogni mattina, la gente lo fa. Sì, è vero, è vero. Perché tu, tutti, come dire, tendiamo a raggiungere un benessere figlio. Ed è quasi, ed è quasi che volessimo una giustificazione sulle cose strambe che facciamo a volte pure, no? esatto, quindi lui voleva giustificarsi di questa cosa, ha detto, no, parliamo che questa cosa guarisce da tutto, perché ci sono, ha messo lui un barasma di patologie, patologie gastrointestinali, patologie e psichiatriche, chi più ne ha più ne mette, senza nessuna correlazione, per giustificare, secondo me, questa cosa che a lui piaceva tanto, che era appunto l'inserimento in retto di utensili di forma fallica. Esatto. Prego, Beglie. Lo stesso dottor Young sottolineava la dilatazione rettale come rimedio alla pazzia, sostenendo che almeno i tre quarti dei maniaci al mondo sono curabili in poche settimane con l'applicazione dei metodi di dilatamento degli orifizi. Young... Mi fa spaccare, mi stai facendo spaccare, perché mi immagino, mi immagino un po' anche quello che fa... Allora, devo filtrarla questa cosa, che sto dicendo. Tante volte quando noi siamo tra noi amici, amici che ci conosciamo da vent'anni, quindi veramente, tra di noi, noi utilizziamo uno slang molto volgare per mandarci a cagare, no? Ecco, sembra proprio questo, no? Cioè, lui trasforma questa cosa in reale, ci sta che un pazzo, credo che in questo caso un pazzo potrebbe diventare ancora più pazzo, però, diciamo, poi dipende sempre dagli orientamenti e i gusti sessuali, giustamente. però va bene, ok, passo, passo, ok. Esatto. Young stesso però ammise anche che alcuni pazienti si facevano prendere dal panico alla vista dei dispositivi. Direi, e allora, poi è bellissimo, ci sono le istruzioni all'interno di questa scatola, proprio fatto benissimo, e ancora oggi chi è che ha questo accessorio, questo diciamo, questo strumento, è un pezzo da collezione sicuramente. Non dimenticare di usare i tuoi dilatatori, queste sono le istruzioni che c'erano all'interno, si consiglia di usarli occasionalmente come misura precauzionale, e poi la frase che mi fa impazzire è bellissima, cioè non avere paura di usarli troppo. Una pubblicità Ma questo è un genio, ragazzi, questo è un genio è stato. Allora, una pubblicità del 1905 della FE Young & Co di Chicago prometteva che i migliori risultati si possono ottenere usando i dilatatori rettali autotrattenenti di Young, il cui uso realizza per l'invalido solo ciò che la natura svolge quotidianamente per l'individuo sano. Questo è interessante. I medici erano informati che se prescriverete una serie di dilatatori in alcuni dei casi di stitichezza cronica poi li troverete necessari in ogni caso di questo tipo. Il prezzo di un set era di 2,50 dollari equivalenti a 70 dollari odierni. Fussò nel 1938 attenzione che la legge federale statunitense sugli alimenti farmaci e cosmetici incluse anche dispositivi medici e non ci volle molto perché i dilatatori attirassero l'attenzione dei funzionari. Nel 1940 una partita di dilatatori e del loro lubrificante perché chiaramente venivano venduti insieme il piloment venne sequestrata a New York diventando oggetto di un'inchiesta. Durante il procedimento si accertò che i dilatatori sarebbero pericolosi per la salute se usati con la frequenza e la durata prescritta suggerita nelle precauzioni d'uso. Quella partita di dilatatori venne quindi distrutta in breve tempo i dilatatori del dottor Young divennero solo un bizzarro ricordo del passato. E allora la cosa assurda qual è? Che qua ci sono tanti modelli e anche ci sono quelli auto qua ne parla qua clavabili ecco li vendevano insieme anche al lubrificante autotrattenenti insomma c'erano tante anche versioni alternative di questi dilatatori ma secondo me questa è stata una notizia interessante perché ci fa capire come in realtà perché ragazzi se li vedete sono esattamente come i plug che voi vedete quotidianamente nei vostri siti preferiti o come le classiche pigne queste che si trovano in Sicilia che vendute insieme alla testa di moro esatto insieme alla testa di moro esattamente esattamente allora il filo rosso che avevamo trovato meglio che io ho trovato con questa notizia era quella legata alla storia molto stravagante del primo vibratore che tra l'altro è narrata in modo molto carino simpatico e anche secondo me fedele nel film che io ti consiglio molto del 2011 Hysteria un film tra l'altro in cui c'è anche il buon Jonathan Price che tu avevi già nominato in un'altra esatto e quindi chi sarebbe l'alto passero ma io lo chiamerei un po' più Papa Francesco no? Papa Francesco perché è Papa Francesco e allora io passerei alla seconda diciamo di Samina di questa analisi dell'evoluzione dei dispositivi medici che poi sono diventati effettivamente degli strumenti sessuali e allora da Cleopatra ai giorni nostri la storia del vibratore allora tu la sai questa storia Sonny? Sai qualche cosa un'infarinatura un qualcosina? No 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 come le origini della specie ecco come le origini del vibratore e no caro Benny quindi sono molto curioso e sono pronto come al suo quindi non sai neanche questo film Hysteria non sai neanche di che cosa parla in generale? No ok allora mi fa piacere così scoprirai questa bellissima cosa allora anche se e potrò commentarla in modo del tutto diciamo caldo nessun pregiudizio esatto anche se può sembrare assurdo a un certo punto della storia ci si è trovati dinnanzi all'esigenza di dover inventare uno strumento in grado di attivare la stimolazione clitoridea stiamo parlando del vibratore tra i sextoi sembra essere insieme al dildo quello storicamente più antico una scoperta relativamente recente fa risalire l'esistenza del vibratore anche se ci sono anche scusami se ci sono dei dildo che possono vibrare sì vabbè diciamo che qui fanno distinzione intercambiabile questo è pure vero questa è pure vero la vibrazione applicabile a qualsiasi strumento esatto quindi una scoperta recente fa risalire l'esistenza del vibratore già all'epoca di Cleopatra quindi 54 avanti Cristo circa sembra che come faceva che Cleopatra sembra che la regina sempre intassonagli potrebbe essere un'idea sembra che la regina abbia scoperto che riempiendo un tubo di zucca con delle api geniale è geniale sta cosa vai 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 si poteva ottenere una vibrazione causata dagli stessi insetti infatti infatti io quando ero piccolo prendevo tipo gli insetti li mettevo dentro un barattolo un barattolo o una bottiglia di plastica e in effetti vibravano quindi no ovviamente non li utilizzavo per questo scopo ma comunque no che ritrovandosi chiusi in uno spazio ristretto diventavano frenetici frenetici la storia questa è la storia appunto del vibratore quindi interessante questa cosa se ci pensi Cleopatra comunque è stata sempre una donna eccezionale è presente quante volte parte quella pubblicità su youtube non mi ricordo si dove c'è Alberto Angela vero c'è Alberto Angela e fa Cleopatra una donna effezionale tra l'altro io voglio dire una cosa su Alberto Angela cioè a parte che è invitato al podcast del cactus ovviamente assolutamente assolutamente io vorrei dire appunto che il caro Alberto dovrebbe smetterla di parlare a ruota continua di della reggia di Caserta non ne possiamo più basta parlare della reggia di Caserta perché se suo padre era fissato con i dinosauri lui è fissato con questa bellezza con l'artistica bellezza artistica della reggia di Caserta ok è bella è bella però cambiamo un po' tema caro Alberto allora ma il vibratore mi c'hai bisogno scusa non le dico glielo dirai se mai verrà qui in puntata se riusciamo a beccare Alberto Angela una cosa impossibile ma succederà impossibile improbabile ecco impossibile non esiste improbabile ma che succederà possibilmente tu come prima cosa ti dovrei chiedere la vuoi finire di romperci le balle con la reggia di Caserta se tu fai una cosa del genere io ti do mille euro ma io lo faccio a prescindere caro Sonny ci sta ma no ma è scortese è una cosa che vorrei dirgli da una vita sinceramente ma è scortese beh io diciamo viro impapocchio in modo un po' più elegante ma tu non impapocchi niente tu sei la persona con meno filtri che esiste ma il vibratore è storicamente associato a quella patologia un tempo chiamata isteria e nasce come strumento terapeutico questa patologia nella rudimentale psichiatria del settecento si presentava con una serie di sintomi che potevano variare dall'ansia cronica alla pesantezza addominale dalla irritabilità alle amnesie temporanee siamo ancora nel settecento quando Robert White medico scozzese ipotizzò che ci potesse essere un collegamento tra questi sintomi e la sessualità femminile e con il termine con il termine isteria o isteria in inglese che nell'antica Grecia significava utero ok si andava si andava a delineare una patologia strettamente legata al genere femminile connessa proprio a ciò che biologicamente rende una donna diversa da un uomo ovvero l'utero e più in generale gli organi genitali femminili inizialmente le possibili allora dove siamo ecco le possibili cure e Alessandro inizialmente le possibili cure di questa patologia erano l'utilizzo dell'oppio mi sembra giusto è il matrimonio ragazzi la cura era il matrimonio dove per il matrimonio si intendeva una frequente attività sessuale capito grave cioè praticamente il medico andavi dal medico allora le prescrivo un matrimonio così ragazzi era così sulla cioè nella ricetta c'era scritto matrimonio credibile sulla base di queste considerazioni molti medici del tempo iniziano a praticare quello che veniva chiamato massaggio pelvico che non è altro che che non è altro che masturbazione ovvio si deve considerare comunque che in epoca vittoriana la masturbazione non veniva intesa come una pratica sessuale in quel periodo si pensava che la donna potesse provare piacere esclusivamente attraverso la penetrazione di conseguenza la masturbazione aveva una connotazione esclusivamente medica e veniva chiamata massaggio pelvico in effetti sono i secci pensi ancora oggi molti uomini sono convinti no? si che basta che basti nell'approccio e nel rapporto sessuale la penetrazione quando in realtà se vogliamo dirla in modo più diciamo più elegante una percentuale una percentuale ma non esagerate ragazzi non credete neanche che sia la maggior parte della percentuale del rapporto assolutamente no punto punto assolutamente quindi in realtà diciamo è una visione che secondo me ancora oggi molti uomini hanno sull'approccio alla donna secondo me ho questo presentimento si perché diciamo che l'uomo di base a volte è molto l'uomo di base a volte scusami è molto egoista da questo punto di vista capito invece caro ben di cosa deve essere l'uomo in una relazione con una donna qual è la prima cosa la prima regola l'altruismo l'altruismo o no caro ben di è la prima cosa si sono d'accordo tu tutto quello che il tuo fabbisogno deve arrivare alla fine dopo si esatto 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 assolutamente ma il problema è questo che evidentemente c'è ancora questa idea del fatto che è soltanto l'uomo che deve raggiungere poi una fine durante il rapporto ma in realtà la donna è allo stesso modo merita questo tipo di trattamento positivo l'orgasmo ecco anche perché anche perché scusa caro Benny e ti sento comunque un po' male forse sei lontano ma non importa non importa per quanto riguarda la donna per quanto riguarda l'orgasmo femminile ha una complessità superiore rispetto a quello maschile che ha se possiamo dire una componente meccanica bravo si si è vero capito esatto noi siamo molto più più basici da questo punto di vista veramente tipo uno più uno basta un non nulla ecco diciamo così basta un non che per essere già fuori di melone nel nel per quanto riguarda la sfera femminile stiamo parlando di una realtà più complessa che richiede tanti stimoli quindi ragazzi dovete impegnarvi esatto ma è giusto così assolutamente chiedere chiedere insomma informarsi e soprattutto comunicare col proprio partner per capire le proprie esigenze allora l'orgasmo mezzo fondamentale per la cura veniva chiamato parossismo isterico il massaggio pelvico veniva praticato manualmente con le dita e l'aiuto di oli essenziali ed era ma che lo faceva il medico il medico ed era competenza di esatto ed era competenza di medici specialistici ora cioè ragazzi il medico il medico comunque ha sempre sfruttato le sue capacità mi dissocio da quello che hai detto no perché comunque ci sta ci sta posso permettere di dire questa cosa perché io lo sono quindi è una goliardia fatta all'interno della mia realtà quindi ci sta assolutamente vi è da dire che in quei tempi erano molte le donne che manifestavano i sintomi di tale patologia l'eccessiva richiesta risultava col tempo particolarmente gravosa per i medici che nel tempo lamentavano dolore alle mani alle braccia no comunque mi stai facendo volare questo pomeriggio ben di con tutte queste cose che mi stai dicendo esatto il vibra aiuto comunque il vibratore dunque nasce proprio per risolvere questo problema creare uno strumento che sostituisse il massaggio pelvico il primo oggetto di forma fallica vibrante pensato per la stimolazione clitoridea venne inventato in francia nel 1734 si chiamava tremosseur ovviamente c'è la parola tremore qui no e funzionava come un meccanismo a molla non molto semplice da usare proprio a causa di questo meccanismo particolare i dottori preferivano continuare a usare le mani chiaramente il dottore chiaramente non risolvendo così il problema del loro dolore nel 1800 mi pare un po' una scusa ma mi sembrano delle cose surreali se io mi sto immaginando la scena di una donna magari sonni dovresti vederti sto film devi vederti sto film misteria è bellissimo ma c'è sta roba c'è sta roba assolutamente sì ma di chi è il regista te lo ricordi sì ovviamente sì il regista è te lo dico subito eccolo qua è Tanya Wetzler non so cosa abbia fatto se vuoi te lo dico subito ecco qui questa tizia ha fatto soltanto tre film di cui due sconosciuti quindi Isteria è il suo cavallo di battaglia andiamo avanti nel 1869 quindi ragazzi un bel po' di anni nel futuro George Taylor fisico americano inventò il manipulator il primo vibratore a vapore a vapore ma questo è pazzo ragazzi a vapore quindi cioè ragazzi tipo il Titanic cioè a vapore lontanamente simile a quelli attuali appariva come un oggetto di tortura una specie di tavolo su cui era posizionata una sfera che attivata da una macchina a vapore esercitava la stimolazione in alternativa al manipulator si inizia ad utilizzare anche le docce pelviche docce pelviche sono sostanzialmente corrispondenti a getti d'acqua diretti verso la zona genitale ok il doccino il doccino esatto il cosiddetto telefono mortimer granville e qui arriviamo al protagonista del film hysteria quindi mortimer granville nel 1883 inventò il vibratore elettromeccanico il primo che può davvero essere considerato un vibratore come lo intendiamo oggi famoso con il nome di con il nome di granville's hammer cosa vuol dire hammer sonni martello 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 di granville qualche anno dopo nel 1899 fu creato il primo vibratore a batteria quindi ragazzi nel 1900 1899 siamo lì sarà in questo periodo che verranno inventati e commercializzati circa un centinaio di oggetti del genere solitamente acquistati da medici per la cura delle pazienti quindi anche qui ragazzi abbiamo sempre un'attenzione di carattere medica più che prestamente sessuale e mi dissocio di nuovo da quello che hai appena detto allora bisognerà aspettare il 1902 quando l'azienda Hamilton Beach iniziò a sviluppare Beach come spiaggia però iniziò a svilupparlo come iniziò a pubblicizzarlo come un elettrodomestico perché il vibratore entri nelle case comunque ragazzi era secondo me trovavano tutti i modi più bizzarri per introdurre qualche cosa che poteva avere dell'imbarazzante in quel fragente in quel periodo ma l'imbarazzante ma anche ma secondo me è utile ragazzi è utile per la salute anche psicofisica delle donne il fatto che sia utile è ovvio e io qua il podcast del cazzo ti ho detto tante volte che odio le ovvietà ok però è giusto dirlo magari qualcuno potrebbe farsi un'idea sbagliata sul tuo punto di vista capito Sonny questo è il problema quale punto di vista? non lo so magari qualcuno potrebbe pensare che tu sei reticente su questi argomenti su questi perché cosa ho detto? no no per dire per dire tu in generale lo diciamo per fare la cosiddetta paratina di culo però in realtà per chi ci segue per chi ci conosce sa che qual podcast del cactus l'apertura mentale è tutto e ti ho detto sempre e lo ripeto sempre ricordiamolo però rammentiamolo rammentiamo che che c'è un'apertura mentale totale e che soprattutto al podcast del cactus dice c'è un'unica regola un'unica c'è una regola che è quella della estrema e più totale libertà su tutti i fronti di ogni fucking individuo ok ovviamente con tutte le limitazioni del caso limitazioni ovviamente non puoi venire qua a insultarmi perché se libero di insultarmi sei libero anche di andartene a carriera però esattamente 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 se ci pensi esattamente andiamo un po' ecco al dunque che lo sonni così concludiamo questa bellissima chiacchierata che secondo me è stata anche molto interessante per i nostri ascoltatori e intrattenente a me mi è piaciuto che ho scoperto cosa è nuova esatto bisognerà aspettare quindi dicevamo in 1902 paradossalmente la natura apparentemente medica del vibratore fece sì che venisse pubblicizzato più liberamente allora di quanto non lo sia oggi ragazzi questo è il paradosso cioè tu non hai visto una pubblicità di un vibratore l'hai mai vista in televisione prima c'era evidentemente qualsiasi donna poteva acquistarlo per la propria salute c'era libera andavi in farmacia vorrei il vibratore ok te lo diamo oggi invece capite c'è un po' di devi andare nel sexy shop è un paradosso quindi c'è stato l'involuzione da questo punto di vista anche se ormai Belli l'ha andata al sexy shop è una cosa che non c'è più per via ovviamente di internet esattamente comunque esso fu a tutti gli effetti il quinto elettrodomestico a entrare nelle case quali sono gli altri quattro? non lo sappiamo ma credo che ci sia potremmo anche arrivarci ma allora nel frattempo le diagnosi di isteria venivano rimosse dalla psicoanalisi e sostituite con interpretazioni più dettagliate legate a disturbi dell'umore disturbi d'ansia stati depressivi eccetera siamo nel 1952 quando l'American Psychiatric Association cioè la APA dichiara che l'isteria non è una patologia ma un mito negli anni venti i vibratori cominciarono a essere usati nell'industria pornografica e ad essere pubblicamente associati a pratiche sessuali quindi diventò impossibile per la moralità pubblica dell'epoca continuare a pubblicizzarli come strumenti medici capite? che paradosso ragazzi incredibile quindi paradosalmente poi l'avvento alla pornografia ha rotto le uova nel paniere praticamente sì carosonni improvvisamente nessuno più li pubblicizzò e divennero e divennero un tabù venendo commercializzati soltanto in ambienti molto ristretti tuttavia sul finire degli anni 60 l'utilizzo dei vibratori fu studiato scientificamente da Masters e Johnson ma il lavoro che più di tutti fu influente fu influente sull'argomento fu quello della terapeuta Ellen Singer Kaplan che suggerì l'uso del vibratore nelle donne anorgasmiche a questo punto ci si rese conto che la forma fallica così come era non era indicata per provare buone vibrazioni si pensò allora alla forma ad orecchio di coniglio e si è iniziato a produrre vibratori pensati specificamente per l'anatomia femminile negli anni 70 il vibratore diventò il simbolo dell'emancipazione sessuale della donna grazie alla rivoluzione sessuale liberandolo dalla sua funzione esclusivamente medica e riconoscendolo anche per quello che è uno strumento di piacere femminile e non c'è niente di male ragazzi assolutamente e non c'è niente di meglio esatto secondo l'analisi sociologica sulla vita sessuale delle donne americane svolta da Cher Hate negli anni 70 solo l'1% delle donne americane allora possedeva un vibratore oggi le cose sono molto diverse a partire dagli anni 90 infatti si inizia a vedere il rabbit appunto che sarebbe questa forma di orecchio di coniglio reso famoso dalla serie tv reso famoso dalla serie tv Sex and the City in cui venivano mostrate per la prima volta nel piccolo schermo le tante possibili sfumature del mondo femminile del mondo sessuale femminile spogliandolo da tutti i tabù e le false credenze di cui è sempre stato circondato facendo emergere in modo facile e divertente tutte quelle piccole grandi verità nascoste fino a quel momento ragazzi Sex and the City che molti sottovalutano in realtà è una serie molto interessante molto importante per la storia della televisione americana e anche mondiale io conosco so parlarti del film ovviamente il film chiaramente è una sorta di tie-in un tie-in si chiama così della serie tv volume 1 perché il secondo non mi è piaciuto molto l'ho visto pure la serie però ripeto sono dei tie-in ma in realtà l'originale serie è quella che va recuperata allora il rabbit dicevamo è stato uno dei primi ad avere uno stimolatore clitorideo è anche uno dei primi ad essere venduto quasi di più quasi più di qualsiasi altro elettrodomestico il successo di questi strumenti di piacere sicuramente si deve anche al fatto che in quegli anni inizia a diffondersi lo shopping online quello che dicevamo prima esatto quindi non c'era magari la vergogna di dover comunque se ci pensi quanto è brutto vivere in una società dove devi vergognarti per fare magari una cosa naturale è una cosa naturale tra l'altro cosa? è una cosa naturalissima tra l'altro come la masturbazione ovviamente guarda anche se fosse qualcosa di naturale ok se qualcuno vuole fare qualcosa di naturale magari per quelli che possono essere delle concezioni correlate alla società in cui viviamo eccetera eccetera però se lo fa stare bene non fa problema in nessuno perché si è vergognare ragazzi il concetto di vergogna è solamente quando fai le porcate mia nonna ecco questa è una cosa vera sì però dico porcate cosa intendi per porcate perché magari chi è che non conosce il gergo è anche un po' sicuro diciamo porcate cosa intendiamo intendiamo che questa cosa mi era sempre detto a mio nonna perché quando ero piccolo ero molto timido ed ero mi vergognava mi vergogna a fare questa cosa allora ragazzi mio nonna mi diceva sempre una cosa che comunque poi mi servì vediamo diamo questa sorta delle male parti quando si comporti male sì ok quindi io per porcate intendo uno che si comporta male che fa delle cose proprio terrificanti contro il prossimo ovviamente contro il prossimo esattamente qui ti devi vergognare tutto il resto alla fine se ti fa piacere se ti fa stare bene non vedono nessuno non c'è alcun motivo per cui esatto Sonny tra l'altro questo è un messaggio molto importante proveniente comunque da una donna di un'altra generazione caro Sonny e questa è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire di tua nonna Sonny scusami c'è stato un piccolo lag quindi ho parlato io nel frattempo comunque allora dicevo questa è una cosa molto importante perché proviene da una donna come stavo dicendo che comunque appartiene a un'altra epoca quindi sentirlo dire da tua nonna è bellissimo perché comunque tonone è sempre stato avanti mentalmente incredibile comunque Sonny scusami finisco qua il discorso e poi facciamo questa chiusa finale ok allora questo rendeva per entrambi i sessi quindi dicevamo lo shopping online meno imbarazzante l'acquisto di strumenti nati per il piacere sessuale internet è diventato senza dubbio un canale anonimo e sicuro tra virgolette libero dal fantasma del giudizio altrui che ha permesso al mercato dei sex toys di crescere esponenzialmente negli ultimi anni e anche di evolversi attraverso la ricerca di stimoli sempre nuovi sembra ci sia ancora una grande maggioranza di persone che affronta con una sorta di riserva e velato imbarazzo il tema della masturbazione femminile sono dei pazzi no? perché non c'è motivo basterebbe considerare i benefici che le donne hanno praticando l'autoerotismo per abbandonare definitivamente stereotipi e tabù esso infatti riduce lo stress induce il rilassamento migliora la qualità del sonno e il rilascio di dopamina e ossidocina solleva l'umore andando a rivestire un aspetto molto importante per un sano benessere fisico e psichico dell'individuo inoltre per quanto riguarda i benefici sperimentali a livello di coppia i sex toys possono rappresentare una novità in grado di incuriosire e stimolare le fantasie di due partner pensiamo a una coppia che insieme da molto tempo ad esempio attraverso il gioco si attivano dei meccanismi che li aiuta che aiuta la coppia a comunicare non solo verbalmente attraverso lo scambio di fantasie ma anche e soprattutto con il corpo tutto questo può contribuire a ravvivare un rapporto caduto nella monotonia infatti non di rato i sex toys vengono utilizzati anche come supporto di aiuto nelle terapie di coppia in conclusione possiamo dire che la sessualità è una dimensione estremamente soggettiva e variegata può essere immaginata come un percorso un viaggio verso una meta mai definita e ogni persona affronta questo viaggio muovendosi nella sfera del piacere con i suoi tempi modalità e percezioni allora perché non farlo divertendosi punto interrogativo e qui ti lascio concludere caro Sonni abbiamo un minuto vai Sonni sfogati ma guarda caro Benny io dirò questo dirò questo divertitevi ragazzi ragazzi ragazze divertitevi usate tutto quello che volete usare fate tutto quello che volete fare mi raccomando però con parsimonia con educazione e nel frattempo soprattutto che state per svolgere qualsiasi vostra attività qualsiasi attività che vi porti del piacere ricordatevi sempre che gli ascoltatori di andare su spotify o su youtube scrivere podcast del cactus con la k scorrere randomicamente su tutte le puntate che vi ho realizzato e ascoltatevene una proprio mentre vi state beando e vi state e state gioendo della vostra sensualità insieme al podcast del cactus un bacio esatto ciao tutti ragazzi podcast del cactus podcast del cactus podcast del cactus Grazie a tutti.